ragazze buongiorno buongiorno anche da maia e dal mio copriletto rosa che oggi ho cambiato ho tolto quello di scende tutta fiori ho messo questo ho un sacco di copriletti comprati in passato molto belli che non metto poi ho tutti quelli di ikea però per il momento mi sono affezionata a questi così di raso bianco rosa è quello tutto appunto con le rose allora ragazze sto aprendo il video con un momento nostalgia momento nostalgia perché sto lavando i teli e quelli appunto del mare un paio perché poi ce n'è ancora altri due che sono in macchina nel portabagagli poi sto lavando questi diciamo chiamiamoli gran fular queste cose che io utilizzo per coprire i divani e appunto quando ci sediamo e quindi giustamente un momento nostalgia perché questa lavatrice segna la chiusura anche dell'estate perché adesso i teli si lavano e giustamente si ripongono poi per il prossimo anno i gran fular li toglierò e salteranno fuori tutti i plaid quelli rosa poi tra qualche mesetto quelli rossi natalizi quindi diciamo che si sta chiudendo appunto la stagione estiva anzi tra l'altro oggi ne abbiamo 21 neanche a farla apposta e appunto ed entra l'autunno quindi proprio estate ciao archiviata poi ragazze che cosa vi volevo dire oggi ho un attimo di ribellione perché non mi va di fare nulla nel senso mi va di fare il minimo sindacale quindi cucina bagno e poi non si parlerà oggi di pulizie di pavimenti puliti in tutta la casa c'è almeno non passerò il mocio in tutta la casa però sapete insomma che bene o male la casa è pulita ieri siamo stati ieri sera siamo stati in pizzeria mi dispiace non avere filmato ma insomma c'era la bambina io ero quando c'è la bambina io ce l'ho sempre con me sempre in braccio perché proprio non mi ci posso separare appunto avrei voluto filmare eravamo tantissimi eravamo forse una quindicina perché eravamo noi la mia consuocera la cognata di mia figlia quindi sarebbe la sorella di salvo che ha tre ragazzi suo marito insomma c'era mio figlio che è venuto insomma eravamo una bella combriccola siamo stati a mangiare fuori e per diciamo inaugurare e fare gli auguri così alla macchina nuova che hanno comprato mio genere mia figlia ve l'ho detto una mercedes e quindi abbiamo voluto noi qui a palermo in sicilia diciamo sbagliare appunto quando abbiamo un oggetto nuovo si fa un brindisi e si sbaglia mio genero ha buttato un po di buonissimo prosecco nelle ruote della macchina perché si fa così comunque è stata una bellissima serata e niente poi ci siamo ritirati che già erano forse luna di notte così comunque vi ripeto una bella serata in compagnia e ma non ho filmato perché avendo sempre la mia nipotina attaccata vuoi perché piange quindi io la calmo vuoi perché ora del latte insomma gira e rigira ce l'ho sempre io in braccio comunque ragazzi quindi ritorniamo al fatto che oggi non mi va di fare nulla poi tra l'altro ve l'ho detto per ora un po di mal di schiena quindi così proprio non mi va di fare niente oggi mi devono consegnare un oggetto che ho comprato e poi ne devo ordinare un altro penso di ordinarlo su amazon e sempre che mi serve per la cameretta e appena poi è tutto pronto vi faccio vedere appunto i cambiamenti che abbiamo apportato il mio marito ho già fatto una lavatrice ho tolto le lenzuola una lavatrice di cose chiare lenzuola fedele il copriletto nel frattempo mio marito non c'è è andato a farsi il suo solito giro al porticciolo per vedere se c'è pesce oggi ad esempio è sabato e il sabato c'è il mercatino e c'è un fruttivendolo fornitissimo con i prezzi ottimi e di fatti penso spero anzi che mi porti un po di pomodoro un po di frutta come fa lui di solito bene ragazze quindi a questo punto mi vado a fare appunto a pulire il bagno e poi vorrei avvicinare da mia figlia vediamo se mi riesce amore amore mio amore mio con betta la coniglietta betta la coniglietta questa è betta la coniglietta vita mia vita mia vita mia allora c'è di nuovo caldo la bambina l'avevamo vestita un pochino più pesante ma oggi c'è di nuovo calduccio e quindi l'abbiamo alleggerita la mia vita ragazze sono da mia figlia siccome voi mi dite sempre ah che bello quando vai da tua figlia che ci regali qualche immagine e quindi la sto facendo come vedete anche mia figlia segue casa a prima vista e adesso la alessia casalinga sta stendendo un sacco di bucato e io invece ho la bimba e la passeggio un poco è vero amore è vero passeggiamo 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 che c'è cosa c'è cosa c'è andiamo a guardare la stanzetta andiamo a guardare la stanzetta la stanzetta la stanzetta la stanzetta di alice la cameretta di alice questa è la cameretta di alice la cameretta di alice cosa c'è cosa c'è cosa c'è vita mia sei tu vita mia sei tu vita mia 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 con mio marito non ci si annoia mai allora volevo comprato il detersivo per la lavatrice perché questo mi è finito e mi ha comprato questo quindi proviamo adesso questo che naturalmente non ha bisogno di presentazioni perché il liso form è ottimo sia il prodotto quello per pulire appunto il bagno i pavimenti perché igienizza disinfetta e quindi mi ha comprato questo liso form detersivo igienizzanti colori brillanti bene aiuta a rimuovere germi e batteri perfetto poi c'è scritto 54 lavaggi e niente quindi proviamo anche questo delicato sui colori quindi è buono per sia per i bianchi che per i colori perché appunto sui colori è piuttosto delicato questo mi è piaciuto per quanto riguarda l'odore ok allora ragazze qui c'è una lavatrice da stendere enorme di fatti cercasi qualcuno per stendere le cose qua ci sono i teli le cose che ho lavato stamattina le cose che servono per archiviare anche l'estate come dicevamo stamattina e ora invece devo fare questi i tappeti sia del bagno che della cucina è praticamente mi piange il cuore perché è una lavatrice solamente con questi due tappeti io di solito in inverno insieme a questi metto i tappeti quelli pelosi di chea che ho in camera da letto insomma un pochino sparsi per la casa però io poi a inizio estate queste cose le ho tolte ragazze niente qua come vedete è tutto scombinato perché c'è sempre il work in progress il metro a terra maia per fortuna sua si sta riposando perché apicci ride stanco vero vito mio ora la nonna viene si mette accanto a te va bene e quindi aspetto appunto più tardi aspetto questa consegna mio marito come un bravo bimbo è messo davanti la tv perché tra poco comincia la partita del palermo difatti si sta collegando con da sonno e quindi io adesso non lo sentirò per un paio d'ore proprio come come si fa con i bambini quando si mettono davanti la tv con i cartoni quindi starò e poi ragazze devo fare queste due cosine sporche del dopo pranzo io oggi ho mangiato un po di riso in bianco con olio e formaggio per diciamo riprendermi anche dagli stravizi ieri sera insomma cose fritte panini quindi oggi assolutamente cibo serio cibo rigido quindi il riso in bianco ok ragazzi allora facciamo una cosa io vi carico adesso il blog di oggi come vedete sono stata pure da mia figlia più tardi più tardi vediamo come riesco a organizzarmi se mi portano questo questa cosa che io aspetto se posso sistemare se posso sistemare poi vi faccio eventualmente eventualmente vi faccio un piccolo video nel frattempo io vi saluto e in ogni caso poi ci vediamo domani mattina ciao ragazze buon sabato sera a tutte